350 anni, seppur fedele agli antichi principi di fondazione, così giovane, così moderna e così attrattiva per i giovani che ogni anno continuano ad avvicinarsi con devozione. In tanti hanno preso parte a Taranto alla festa della titolare nell'ambito dei festeggiamenti della Beata Vergine del Monte Carmelo di Taranto. L'arci confraternita del Carmine ha portato in processione la Madonna da Piazza Carmine in Via d'Aquino, Piazza Maria Immacolata, Via Berardi, Via Anfiteatro, Corso Due Mari, con uno spettacolo filotecnico, accompagnati dalla musica dei complessi bandistici Chimienti di Montemessola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e Lufrano di Trigiano, diretto dal maestro Davide Filippo Abbinate. I canti sono stati affidati al coro Monte Carmelo, diretto dalla professoressa Anna D'Andria. È uno dei momenti più partecipati del nostro sodalizio nell'intero corso dell'anno. La grande devozione per la Madonna del Carmine, che naturalmente c'è un po' ovunque, ma a Taranto è particolarmente sentita, è di preludio all'attività che svolgerà il sodalizio per i 350 anni di fondazione. La consacrazione del nuovo altare, l'apertura dell'anno santo straordinario e questa mattina l'aggregazione di 51 nuovi novizi. Grazie.